Tanti palloncini bianchi in cielo per l'ultimo saluto a Francesca Maione, la 26enne di Poderia morta due giorni fa, uccisa da una scarica elettrica. Ieri mattina alla celebrazione funebre. I familiari, amici e conoscenti hanno atteso il rientro della salma dall'ospedale San Luca, dove era stato eseguito l'esame esterno. All'arrivo del carro funebre il silenzio è stato rotto dagli applausi, ma soprattutto dalle urla di dolore della madre. La donna insieme al marito è andata ad abbracciare la bara che conteneva il corpo della 26enne, a cui non ha potuto dare neanche l'ultimo saluto. Una scena agghiacciante. Il dolore della donna è arrivato diritto al cuore dei presenti. Toccanti le parole del parroco Don Vincenzo Contaldi, Francesca amava la verità. Anche quando lei parlava con me, da amica, lo faceva sempre in modo vero. Questa morte è assurda, ma da oggi dobbiamo pensare a Francesca in modo diverso. Francesca ha creduto in Gesù e adesso che ha altropassato il confine della morte ha ottenuto la vita eterna. Dobbiamo cercare di portare avanti i pensieri in cui lei ha creduto e soprattutto la verità. Dobbiamo dire sempre la verità, soprattutto per quelli che si credono esperti della rete, che scrivono su questo Facebook. Se siamo veramente amici di Francesca non dobbiamo diffondere le menzogne e le calugne. Francesca è diventata un angelo. Un piccolo corteo ha accompagnato il feretro nel Camposanto dove è venuta la sepoltura. Il sindaco di Celle di Bulgaria, Gino Marotta, ha proclamato il lutto cittadino. Atroce e crudele il destino della giovane Francesca. Il papà è stato iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto dopo la conferma della causa del decesso della ragazza. Francesca, venerdì sera, mentre faceva la doccia, è rimasta fulminata da una scarica elettrica, probabilmente a causa del cattivo funzionamento dell'impianto elettrico realizzato in maniera casalinga.